Bravo Pioli, bravo, una partita veramente indimenticabile, perdiamo in casa con l'Udinese 1-0, una partita umiliante, preferisco il derby perso 5-1, quantomeno sul 2-1 il Milan se l'era giocata, sul 2-0 2-1 il Milan se l'era giocata, ma non puoi, dico io, fare queste cose contro l'Udinese, hai vinto, l'Udinese non aveva mai vinto una partita in Serie A finora, scusate gli occhiali un po' sporchi, non aveva vinto una partita l'Udinese, tu gliel'hai regalata, perché questo è un regalo, sì, il rigore è inesistente, quel che cazzo vuoi tu, ma tu non puoi, cioè tu se non la perdevi, la pareggiavi, non la vincevi di certo, ocaforche non tira davanti al portiere, cioè io non lo so, veramente, voi mi volete male, voi mi volete male, io non lo so, però voi siete pessimi, questo Milan quest'anno è terzo per puro miracolo in zona Champions, rischiamo di fare la fine del Milan di Gattuso, rischiamo di diventare addirittura fuori dalla Champions, e quest'anno il Milan non meta la Champions per come sta giocando, ma dobbiamo giocare a Lecce, e Lecce-Milan, sai che bel casino ci combinano quelli, cioè ma io non lo so, io non lo so che cazzo mi prende ragazzi, ma perché l'Udinese era una squadra facilissima da battere, nel primo tempo solo il Milan ha giocato, loro hanno avuto solo un'occasione che hanno mandato fuori per nostra fortuna, ma che l'ha regalata Florenzi, per il resto proprio Florenzi si è mangiato un gol davanti a quel coglione di Silvestri, Leao stasera irriconoscibile, Giroud assente, tranne un tiro di testa mandato fuori, ocaforche e manca la palla davanti al portiere, manca il gol, cioè ragazzi ma dove vogliamo andare di questo passo? Le pagiale non si fanno, è solo uno sfogo, perché tutti insufficienti, tranne la difesa che è promossa sinceramente, tranne qualcuno, tipo stasera ti ho 5 e mezzo, ho fatto bene ma non benissimo, Tomori 6 più se lo prende, Florenzi 6, Calabria 6 più anche lui, per il tiro che ha fatto purtroppo parato, Musa davanti è promosso come Adli, Mignan pure, per il resto tutti gli altri, tutti i bocciati, c'è Leao 4, Giroud 4, Khafor 4, Jovic non classificato, chi cazzo c'è, Reinders 4, Krunic 3 per l'ammunizione, Musa, Adli pure 6 va bene, chi altro ci sta, insomma tutti quelli che sono entrati, poi tutti insufficienti, ma chi cazzo hai me? Ah, Romero non classificato perché non ha fatto niente, Pioli 0, cioè voto 0, 0, anzi da 0 a 5, sono 5 no le insufficienze a parte lo 0, beh sono 6 in realtà perché c'è anche lo 0, vabbè abbiamo capito, noi stiamo a parlare di informatica e caro Pioli te le prendi tutte stasera, beh dopo sta partita buon viaggio Pioli e stai alla larga dal rosso nero, veramente hai rovinato un intero lavoro estivo, volevi questi giocatori? Hanno fallito tutti, dal primo all'ultimo, purtroppo solo Pulisic assente e purtroppo, vabbè Ruben Loftus-Cic pure, cioè alla fine stasera io a Ruben non gli posso dire niente, ha giocato solo un tempo, ma pure a Musad lì, loro sono promossi, il problema è solamente l'allenatore perché di norma gli acquisti su un 10 quanti cazzo sono presi? Io direi che solamente in 5 sono promossi, ma almeno la metà è qualcosa, a tempi di passione Mirabelli nessuno era promosso, ma comunque parlando del Milan, allora questo Milan rispetto all'anno scorso è sicuramente più forte, però stasera abbiamo avuto, veramente siamo stati proprio, siamo stati di una, così scarsi, cioè come è fatto a perdere con l'Udinese in casa? Mò siamo terzi per puro miracolo, il Napoli a meno 1 dal Milan, mò si può superare, vuoi arrivare quinto in classifica, c'è pure l'Atalanta, l'Inter ormai 6 più è in campione d'Italia per la ventesima volta hanno vinto la seconda stella, cioè tu praticamente hai regalato la seconda stella all'Inter, tu che eri primo potevi giocartela, ci non lo so, guarda, primo posto è Champions in nostro obiettivo, non ne compirai neanche uno Cardinale, mi dispiace Gerry perché la colpa non è tua, tu ci hai fatto diventare quello che siamo ora come squadra, non è colpa tua a livello anche di buoni, farlo dei buoni non dei cattivi, insomma tu non puoi farci niente caro Cardinale, la colpa è tutta colpa di Pioli, perché la società ha fatto un buon mercato, inutile negarlo, Taremi non è stata colpa loro se non l'abbiamo pigliato, ma ripeto, cioè non è colpa della società, è colpa di Pioli, perché tu hai avuto tutto il tempo per migliorare, guarda cosa è successo, cretino che non sei altro, io non lo so, guarda, io non lo so. Parlando di stasera comunque del rigore, ragazzi, inutile che parlate, Adli prende il pallone, non era calcio di rigore quello, quello nel secondo tempo che lo prende di gomito, quello sì invece che è calcio di rigore, ma ovviamente non ci dà nulla, cioè non lo so veramente, manco fortunati qua perché Okafor manca davanti alla porta, Giroud con un tiro di testa la mandava, com'era, parata, vabbè quel che cazzo è, cioè non siamo nemmeno fortunati, ragazzi il Milan stasera è morto purtroppo, col PSG non presentiamoci, pigliamogli 3 a 0 a tavolino, ciao ciao.